e tu sei nato a Torino anche i miei tutti e due a Torino solo mio nonno un attimo solo ragazzi quando volete Daniele ha dei cuori allora Stefano Padova gol importantissimo perché ha raggiunto una partita che si stava complicando le tue sensazioni prima sensazione questo è il primo gol che fa il campionato sicuramente è stato un gol importante ma era importante da esponere a drizzare la partita siamo stati molto bravi e con la determinazione e la tenacia siamo riusciti a ribaltare una partita che non era facile anche viste le condizioni del tempo era complicato da giocare e siamo stati bravi sono molto contento a prescindere dal gol ma proprio per la vittoria in questi casi si dice che la squadra non ha mollato fino alla fine non è rimasta in partita e ha trovato il gol della vittoria il 91esimo però credo che insomma al di là del fatto che sia arrivato il 91esimo non può essere segmentato questo gol della vittoria abbiamo fatto secondo me una buona gara poi può succedere di prendere gol le partite si complicano e in una partita ci sono mille partite ci siamo ritrovati sotto ma veramente siamo stati bravi a crederci fino alla fine perché se non ci credi una partita così non la raddrizzi senti arrivare un personale invece e sei arrivato qua molti dicono ma hai infortunato abbiamo preso un infortunato però sei in campo hai fatto gol no no ero ho subito un infortunio comunque abbastanza importante alla caviglia e ora mi sto riprendendo ovviamente sto mettendo minuti minuti nelle gambe allenamenti e va sempre meglio e sono venuto qui per cercare di dare il mio contributo per alla squadra ecco a che punto sei delle condizioni per fare una percentuale ma penso che adesso siamo al 60 70% manca ancora un po' ma quello è normale più che altro sono i ritmi ritmi della partita perché gli allenamenti già li sto facendo però è giusto che c'è un tempo fisiologico negli infortuni però sto guarendo e sta procedendo bene alla fine avete chiuso con 4 taccanti quasi puri di radicale presi che forse meno taccante degli art però tu Fasolo Ayu la cala presi stessa insomma il mister li ha messi dentro tutti per cercare di arrivare a questa vittoria mentre loro ormai a quel punto avevano messo il pulmo davanti da Polet sì sì sarà indirizzata in quel senso la partita il mister giustamente ci ha parlato fino alla fine ed è stato premiato dalle scelte che ha fatto bello primo gol insomma è stato un bel gol perché calcio d'angolo è calciato subito di prima un gran gol complimenti grazie è stato un bel gol però ripeto sono felice più per la vittoria poi il gol è sempre una cosa in più ma è importante che la squadra sia sempre a vincere si è arrivata insomma per dare un contributo in fase offensiva e l'hai dato subito praticamente la terza partita che so che è questa e quindi insomma i tuoi gol le frazioni davanti possono essere anche un motivo per la squadra per la rimonta che insomma ci crediamo tutti sì magari fosse sempre così che entri e fai subito gol però come ho detto prima sono venuto qui per cercare di dare una mano e faremo faremo di tutto per fare il nostro meglio ecco a posto grazie perfetto complimenti no scusi no 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 ti fai più di filo perché che tu scusate scusate